Casi a 350 euro al mese in Lazio 2000 case in affitto da 350 a 600 euro al mese tra Decima, Tor Cervara e La Storta Saranno pronti a primavera grazie all'esperimento unico in Italia lanciato da amministrazione, costruttori e capitalia Contando sul finanziamento messo a disposizione dalla regione Lazio I costruttori stanno edificando nuove abitazioni che saranno poi trasferite all'istituto di credito che le gestirà Secondo la normativa il prezzo non potrà superare i 600 euro al mese Dopo 8 anni gli inquilini avranno l'occasione di acquistarle con un meccanismo che consentirà soprattutto alle fasce deboli Tra cui le giovani coppie di comprare un alloggio